De Luca è un po' confuso, forse crede che siamo ancora nel Medioevo. Per questo ha promosso quattro dei suoi amici, dei suoi fedelissimi, per garantirgli 4.600 euro di indennità e così facendo tratta la nostra campagna come un regno feudale. La politica non è questo, la politica non è favorire i propri amici, non è fare piaceri alla propria cerchia ristretta. La politica è migliorare la vita della gente, della gente normale, della maggioranza della nostra regione. Per questo il 20 e il 21 settembre la scelta è tra essere servi ed essere cittadini. Noi vogliamo essere cittadini, siamo nati per camminare sulla testa dei re e De Luca non ci fa nessuna paura, mandiamolo a casa.